camilla 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 che c'è che c'è che c'è avete sinucia da vendere ce n'è ce n'è ce n'è a casa di chi è anilda 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 che c'è che c'è che c'è avete amore da vendere ce n'è ce n'è a casa di chi è diego 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 che c'è che c'è che c'è avete tenacia da vendere ce n'è ce ne ce n'è a casa di chi è martina 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 che c'è che c'è che c'è! Avete speranza da vendere? Ce n'è, ce n'è, ce n'è! A casa dici eh! Don Fabio, Don Fabio, Don Fabio!